Sì, buongiorno, Andrea Ricci di Radio Lupis. Di Benigni non ne sappiamo niente, però Fiorella ha quanto dato per certo anche questa amicizia che lega il conduttore Morandi dallo stesso comico. Ci sono ancora trattative in questo senso o è stata completamente accantonata l'idea? Grazie. Ma abbiamo già risposto anche ieri su questo. Ci sono artisti che forse fino all'ultimo lavorano a un'idea e finché non la trovano non ti danno risposta, quindi in questo senso potrei dire che le trattative non ci sono più. Amano anche magari giocare il fattore sorpresa per cui da questo punto di vista potrei dire che invece magari ci stanno ancora pensando, però al momento noi pensiamo che lui non ci sia.